eccoci qua in diretta breve diretta pochi minuti vi rubo al vostro tempo per approfondire questa tematica che sta imperversando adesso per le piccole e medie imprese relativa proprio alla necessità di comprendere come gestire gli strumenti messi a disposizione di questi decreti d'urgenza rivolte alle piccole e medie imprese e le attività che in questo complicato periodo che stiamo vivendo per quanto riguarda una ripartenza come affrontare questo aspetto l'aspetto della liquidità ogni azienda ha la sua storia ogni azienda la sua fotografia e quindi ogni situazione va analizzata in maniera diversa ma affrontiamo l'aspetto per le aziende che sono ad esempio in lombardia da dove vi sto trasmettendo le aziende che sono in lombardia hanno parecchi strumenti che sono operativi anche presso la regione lombardia che possono essere utilizzati come liquidità faccio un esempio per tutti come il famoso credito adesso che è stato potenziato molto interessante per le piccole e medie imprese cosa fare in questo momento per il decreto liquidità per le aziende micro piccole che possono accedere a questa garanzia dello stato fino ai 25 mila euro di garanzia statale quindi non è un fondo perduto ma è un prestito che andrà poi restituito sembra una sottigliezza ma non lo è andiamo sul pratico ogni istituto bancario ha un suo portale e ha una sua ha aperto un piccolo link per questo decreto con la modulistica necessaria oltre al famoso e famigerato articolo l'allegato 4 bis del decreto liquidità che praticamente sono otto pagine da compilare le banche hanno fornito loro documentazione per poi essere trasmessa all'istituto di credito come fare il mio suggerimento operativo pratica è utilizzare la mail il telefono e la relazione che hai con la propria banca anche perché è molto complicato aperta chiusa parentesi se non impossibile aprire un rapporto nuovo per questa richiesta se non hai un rapporto già aperto presso un istituto di credito quindi è difficilissimo farlo anzi impossibile questo decreto liquidità prevede piccole cose ma che vanno seguite cosa posso chiedere il 25 per cento del fatturato dell'anno precedente ma l'anno precedente del 2019 siamo ad aprile 2020 i bilanci non sono ancora depositati quindi fa fede alcune banche chiedono il bilancio del 2018 diamoglielo 25 per cento del fatturato o il doppio del costo del personale alleghiamo sempre questa documentazione anche una piccola relazione come previsto nel decreto in cui si dice il motivo di questa richiesta che il motivo è lo sviluppo aziendale o la gestione degli oneri per la per la gestione ordinaria della mia impresa quando devo ridare questi soldi al massimo questo prestito dura sei anni con un pre preammortamento di 24 mesi per chi non è preammortamento vuol dire che per due anni pago solo gli interessi in questo caso gli interessi sono a tasso fisso non vi sono spese di istruttoria non vi sono costi eventualmente se voglio estinguere anticipatamente questo prestito questo mutuo che contraggo quindi va fatta una fotografia della mia azienda va gestita la necessità di sviluppo che ha la mia azienda e in base a quello utilizzare gli strumenti che ci sono decreto di liquidità mi permette di avere questo prestito fino a 25 mila euro da restituire in sei anni come dicevo tassi ogni banca sta facendo un cammino a se stessa sono sotto il 2 per cento variano da banca a banca si attestano su vari fino a un massimo dell'1 85 a tasso fisso non stanno reglando niente nessuno 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 non esistono pasti gratis come in questo caso quindi questa è la realtà dei fatti si è parlato molto si è detto molto sui social si è detto molto sui giornali 24 72 ore no non sarà così non saranno erogati i prestiti in 24 72 ore perché la banca è tenuta secondo il testo unico bancario a fare l'istruttoria quindi verrà fatta un'istruttoria quindi i tempi necessariamente saranno un pochino più lunghi delle 72 ore quindi verrà fatta questa istruttoria quindi mi sbilancio a dire che non avremo i soldi non avrete i soldi in 72 ore ci sono già 100.000 domande giacenti presso gli studi di credito che devono fare l'istruttoria e poi inserire la richiesta di garanzia al fondo di garanzia che a sua volta non farà l'istruttoria dalla garanzia alla banca la banca dovrebbe erogare la mia previsione che andiamo dai 10 ai 20 giorni per quanto riguarda l'erogazione quindi siamo al 22 di aprile a maggio cominceremo a vedere le prime erogazioni di questi prestiti questa è secondo me la mia personale opinione con tutta la buona volontà degli istituti di credito di poter assistere in questo sforzo dal punto di vista operativo e burocratico che esiste e persiste viviamo in italia quindi non possiamo far finta che non esista c'è e dobbiamo gestirlo gestire la relazione con la propria banca gestire la relazione col proprio referente bancario sollecitarlo per email sollecitarlo dopo con una telefonata non gestire la relazione in maniera morbida visto anche l'aspetto di lavoro non indifferente che si sta accalcando presso le scrivanie degli istituti di credito non demonizziamo nessuno gestiamo questi strumenti io dico sempre usa ciò che sei per ogni azienda serve quello che è necessario qualche volta se attraverso un deserto mi danno un bicchiere d'acqua gelata non mi fanno un favore cercano di salvarmi la vita ma mi uccidono quindi non vorrei che certe situazioni possono mettere di più in difficoltà l'azienda piuttosto che essere uno strumento di sviluppo uno strumento di ripartenza per le imprese perché l'impresa non aveva necessità di questo aveva bisogno di continuare a lavorare di avere fatturato venivamo già da un periodo di contrazione di calo del fatturato da dicembre 2019 questa maledetta situazione ha complicato notevolmente la situazione per le imprese ciò non toglie che ad esempio questo decreto può essere di aiuto per quelle piccole e micro imprese con la pazienza e la costanza di gestire questi strumenti messi a disposizione dalla decretazione di urgenza quindi riassumendo ogni fotografia di ogni azienda può essere una soluzione ad esempio un'azienda potrebbe non chiedere il decreto di liquidità ma chiedere la moratoria, la sospensione dei mutui che è già in essere un'azienda potrebbe chiedere di poter avere un po' di liquidità e magari consolidare un piccolo debito che aveva già con la banca approfittando di questa garanzia dando alla banca la possibilità di avere una garanzia al 100% consolidando il debito già in essere e portando a casa un po' di liquidità cosa che è prevista nel decreto se leggiamo nei vari articoli quindi ogni strumento va calato nella realtà personale di ogni azienda queste sono le strumenti che sono questa è la capacità di ogni imprenditore di ogni consulente o di ogni persona che si accinge a gestire questi strumenti quindi gestiamoli con la granusalis cioè con la necessità di avere di calare nella realtà di ogni situazione di ogni impresa la possibilità di utilizzare questi strumenti in maniera intelligente come ripeto 100.000 domande sono già arrivate ne arriveranno moltissime ancora quindi l'intasamento c'è già dal punto di vista operativo e burocratico seguiamo le nostre pratiche con la dovuta cautela ma seguiamole gestiamo questo rapporto facciamo gestire la relazione ricordiamoci che la relazione è molto importante per quanto riguarda anche in una situazione di crisi quello come quella che stiamo vivendo gestire il rapporto con il proprio referente bancario è molto importante andandogli incontro anche nelle necessità dal punto di vista operativo la pazienza la gestione degli strumenti possono essere una soluzione per le imprese non è la panacea di tutti i problemi è un prestito 24 mesi pago solo gli interessi che vengono stabiliti a tasso fisso poi negli altri 4 anni parte la rata del mutuo più gli interessi quindi è un prestito che andrà restituito calcolando lo sviluppo dell'impresa e dell'azienda per chi volesse saperne di più degli altri strumenti che sono messi a disposizione per chi volesse approfondire la propria tematica aziendale quindi calare nella propria fotografia aziendale noi ci siamo riporterò qui poi i miei riferimenti le mie mail anche in video chat per poter essere utile a dare dei piccoli suggerimenti delle piccole linee guida per poter gestire meglio questi strumenti messi a disposizione dalle regioni dallo Stato strumenti che c'erano già operativi per lo sviluppo dell'impresa che sono operativi che non sono morti che magari possono essere affiancati per poter gestire al meglio questo momento di complessità perché è un momento complesso e va gestito con la pazienza e l'intelligenza dal punto di vista finanziario e l'intelligenza dell'imprenditore quindi non lasciamoci gestire anche in questo caso dalle emotività dalla fretta e avevano detto antivu 24 ore 72 ore no gestiamo la relazione calata nella realtà in cui sono calata nella realtà del rapporto non posso chiamiamolo subito se ho un rapporto in posta le poste ad esempio non hanno non possono erogare questo finanziamento di 25 mila euro quindi fino a 25 mila euro quindi se non sono cliente di una banca difficilmente potrò avere accesso a questo a questo decreto liquidità dei 25 mila euro andate a vedere il sito della vostra banca vedrete il link che ha messo a disposizione il set informativo firmate il modulo allegato 4 bis allegate la documentazione che vi chiede la banca e mandatela per PEC lasciate passare due o tre giorni e poi chiamate se è stato ricevuto se è stato processato se la pratica è iniziata l'iter di valutazione perché la banca è obbligata a seconda del testo unico bancario a fare l'istruttoria anche se c'è la garanzia del 100% quindi ripeto la pazienza l'intelligenza per gestire gli strumenti si è messi a disposizione da questa decretazione d'urgenza anche in questo caso l'urgenza non è consigliera i miei riferimenti sono Maurizio Poli educatore consulente finanziario il mio numero di telefono diretto è 349 571 4319 una mia mail m.poli chiocciola yort attino almeno solution punto it e il mio sito ormai lo sapete è www.mauriziopoli punto it gestiamo con intelligenza questi strumenti messi a disposizione alla prossimo video che parleremo invece per tutte quelle imprese che eccedono quindi non sono più micro imprese micro piccole professionisti liberi professionisti ma in medio piccole imprese a cui c'è un altro decreto che si chiama cura Italia che farà riferimento a altre garanzie e altri processi di accesso al credito alla prossima video per approfondire queste tematiche e questi strumenti messi a disposizione per questo complicato periodo alla prossima e poi attraverso la prossima attraverso